Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di materiali dispersi si segnalano rallentamenti tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna, rallentamenti anche in Fipi Lima a causa di lavori tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sulla statale Trebis Tiberina si ricorda invece che a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Valsavignone e Sansepolcro Sud per chi viaggia verso Ravenna. Sulla statale 67 bis Tosco-Romagnola per lavori di pavimentazione fino al 31 ottobre nel comune di Colle Salvetti rimarrà chiuso il tratto dal chilometro 14-950 al chilometro 15-550. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!